Il Comune di Ravenna organizza quattro appuntamenti nelle zone alluvionate, come un momento di confronto con i cittadini. L'opposizione è diffidente per quanto riguarda lo scopo reale di questi appuntamenti, temendo che si trasformino in comizi elettorali. Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Ravenna, parla a nome dell'opposizione, dicendo che saranno presenti in tutte e quattro gli appuntamenti. È giusto che l'amministrazione comunale si interfacci con i cittadini più di quanto abbia fatto finora. Abbiamo assistito fino ad oggi soprattutto a prese di posizioni contro il governo, richieste quasi obblighi affinché Bonaccini dovesse essere il commissario straordinario della ricostruzione. Oggi vorrei evitare, mi auguro, che non vengano utilizzati questi quattro eventi organizzati dal Comune per fare comizi politici contro il governo. Come opposizione andremo lì ad assistere perché se il Sindaco pensa di usare questi eventi con la gente alluvionata per fare campagna elettorale o comizi contro il governo, troverà la sua opposizione consigliare, che però è la maggioranza che governa il Paese, lì a controbattere punto su punto. Gli appuntamenti organizzati dal Comune sono tutti alle 20.30. Iniziano giovedì 6 luglio alla Polisportiva di Fornace Zaratini. Il secondo appuntamento è lunedì 10 luglio al Centro Sociale Le Rose di Via Sant'Alberto. Il terzo è giovedì 13 al Ciclo Endas di Via Villanova a Villanova di Ravenna. E l'ultimo appuntamento è lunedì 17 a Roncalceci.